Quarantotto ore fa abbiamo scoperto qualcosa di incredibile. Che avete trovato? C'è una struttura. In Antartide. E un esemplare. Quanto ce n'è ancora di questa roba? Hai sentito? Sono tutte cose che non ci dicono niente. Mio Dio. Qualcuno è stato attaccato. Mi sembra che qui stiano tutti bene. Questo lo so già come finisce. Siamo atterrati. Lei è Kate Lloyd, paleontologa alla Columbia. Vi mostro perché avete volato per 10.000 miglia. Riteniamo che sia qui da 100.000 anni. Voglio prendere un campione di tessuto. Crede che sia una buona idea? Sì, certo. Mio Dio. Che gli stava facendo? Imitava le sue cellule. Credo che questa cosa cloni le sue prede. E ci si nasconda dentro. Che stai dicendo? Non siamo tutti umani. Può essere in ognuno di noi. VATEMI DI MEZZO VATEMI DI MEZZO VATEMI DI MEZZO Sennò vi faccio fuori. No, Blay! Che fai? Rinterno! Rinterno del pericolo che stiamo correndo. Ha distrutto quasi tutto lo spazzaneve. E ha ucciso i cani che restavano. Credete che la cosa volesse diventare un animale? Io non voglio farmi trasformare in chissà che! Non vorrai fare del male ai tuoi amici? Io ti ammazzo! O qualcuno è miracolosamente guarito. O qualcuno non è quello che sembra. RUNCILO! Caro Mac, stai cominciando a perdere. RUN! 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 Sei un lurido baro. Grazie a tutti.